Bene ragazzi siamo tutti finalmente in questo nuovissimo video, oggi siamo insieme a tanta bellissime... Le tette, 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 no, 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 no. Scusa Giulia. E andiamo a fare un video molto molto bello. No, dico, mi invitino un video e continuo a far così, cioè, tipo un bodyguard. Sì, spazio, 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 sembriamo che siamo qua. Dunque oggi andiamo a fare questo video dove andremo ad indovinare le sigle dei cartoni animati, è una sfida, ci saranno Muro, Giulia e Leo che terrà nel conto e farà la super regia per mettere le sigle. Come funziona la sfida? C'è qualcuno che tiene il conto dei voti, dei buni? Sì, Muro, 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 sì, una cosa a Muro. Però pure mai schifo. Il quadrone di casa ci ha detto di non urlare. E sono le 11 di sera. Allora, mi spiego in breve della sigla. La sigla, vai, della sigla. Mi sta bloccando da WhatsApp. È tutto il video che mi fa gestarci. È ancora iniziato. Esatto. Mi sape faldeando. Appena partirà la sigla, ci possiamo fare notare con la parola cavallo. Esatto, non è che diciamo cavallo, diciamo subito il titolo. I nostri giudici diranno che ha detto cavallo per prima e indicheranno chi può dire la parola. Vai con la sigla. Ciao raga, mi sa che ci siamo scordati di chiedere mi piace nel video. Non mi ricordo, comunque proviamo ad arrivare a 4.000 per vedere altri video divertenti, challenge così molto fighi. E in questo video provate anche voi di nominare le sigle dei cartoni animati insieme a noi scrivendovi nei commenti. Pronti? Siamo pronti. Sigla numero uno. Alza cura al massimo, eh. Quanto andiamo nel passato, eh. Quanto è passato, shh. Oddio. Cavallo a puro! No, era solo per insultarti. Andiamo avanti? Passa, da bombo. Cavallo a puro! Cavallo a puro! Già per a calcio? No. No. No! Cavallo! Diabolik! Cavallo a puro! Cavallo a puro! Lo diceva! Lo diceva! Ho capito, ragazzi. Ma io non leggevo di Cavallic, mica guardavo in sistema di Cavallo! Ma io vedevo con una cosa che erano di Cavallic. Che capisco? Cavallo? Cavallo! un cammello bello guarda è stato volato cammello ma sono la stessa cosa raga ah che bello che bello quello delle rane spaziali ma quel pelato verde 3 2 1 cavallo la gang del bosco no ma che cos'era dopo la giusta punto cavallo bravo 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 come cognome sottotitolo questa qui è difficile è difficile è livello hard vai la scelta muro cavallo vai la coppia di cestini no cavallo stai facendo no sailor moon no cavallo ma in giapponese cantano ma in giapponese cantano raga sono resa d'argento era sopravvina questa sani ora vai vai pronti la bimboina è diamanti cavallo vai quasi magia johnny no tutti quasi magia che cazzo che so ma non c'era mai stai cazzo in magia è magia se ne erano come la giusta cavallo e aspetta lo dicevamo insieme lo dicevamo insieme uno due tre sabrina di bella strega punto a tutti e due dai siete tre io non ho facendo sta pacchetta e fammela cavallo vai geometri dash no no c'era però cavallo muro no vai lo moon no no dai cavallo magia pre questo qualcosa qualcosa con la magia no cavallo ben 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 no no non lo sai parlate magia non siamo cioccolato sono cavallo vai cioccolato no cavallo mi mi no 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 niente mi mi mumu no 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 Cavallo, Vanilla, Camilla No Non l'avevo provato Il ballo Cavallo, Mitch No Adesso lo dice di nuovo il titolo, state attenti Rivali, Cavallo, Rivali Di Bari adesso, siamo di Bari Di Bala Cristallo Rivala, Rivala, Rivala Avete un ruolo sul titolo Avete un ruolo sul titolo Dolce magia Dolce magia c'è No, ascoltate Metti un ruolo sul titolo Esatto Te l'ho dato tre risposte quindi è fuori per questo round No, se l'ho aperto, non lo dice No, ragazzi Cristalli, Back in Bad Ma che c'è? Adesso lei Ma quando lo dice? Ma che è tazza? Ma è la versione integrale Ma se non è che è che è Vabbè, vabbè, basti, cazzi, non lo danno Schifo No, adesso lo dicevo No, era tutto No, non lo sapete Ok, vabbè, che cosa è? Sugar sugar Ma l'ho detto io L'ho detto sugar sugar Ma che è? Sweet sweet Che è? Che ti ricordate? Ma voi, ma italiani non lo potevate? No, sugar sugar Stendi panni, stendi panni, asciuga, 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 asciuga Stendi panni, asciuga, asciuga, asciuga Questa qua, se io e non lo potete saperla voi due Loro due sono donne e non possono saperla No Cavallo Cavallo Mega Mananty Warrior Grazie 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 Mega Mananty Warrior Cavallo Ah no Matteo, Matteo, Matteo Questa è difficilissima Cioè, non la saprei riconoscere neanche io Quello ho messo dentro Cavallo Cavallo, come ranger No No, dice cavallusion No, lo so, lo so, lo so Guarda davanti Cavallo, devolution Cavallo, devolution Cavallo, devolution Evolution, no Devolution No Evolution 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 Ma che cazzo è, posso dire l'immagine? Io, io, vai, Xenna Aaaaaaaah 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 Aspetta, cavallo Non ha detto cavallo Sì, no, l'ha detto cavallo Sì, no, l'ha detto cavallo Adesso No, l'hai detto L'hai detto Pronto? Vai È difficile l'inizio Cavallo Vai Vai È difficile l'inizio Ma guarda Ma tu ci gioca Yu-Gi-Oh Ma è vero Cavallo Vai Mirmo e Camilla Sì Mirmo e Camilla Era solo Mirmo Era solo Mirmo Ultime 5 Vai Pronti? Cavallo Vai Dottor Slam Parale Perfetto Perché mi alzo? Aspetta un attimo 6 4 2 1 Questo è difficile Posso essere l'unico maschio che l'ha guardato Cavallo No, non mi è venuto Aspetta, mi è sfuggito Quella è la sola Lo guardavo, vai Come ho detto cavallo? Vedo il moon No Tu non hai indiziato Sancura Sì Cavallo Sancura Ma che è? Ma dai Ancora tre canzoni Vai Tre canzoni ragazzi Questa qui è storia C'è addirittura la sigla della Yamato video Yamato? Che trancione? Bleach Devon Cavallo Rossella è Giampiero No Rossella è Giampiero Rossella è Giampresto Ha detto Cos'è una bingo? Che bella È difficile Raga tempo Destra Cavallo Neck Perchè No Esatto A Cavallo La moon Si cavallo ma stai la dena no cavallo mermaid melody è l'ultima no questa è l'ultima la miglior sigla italiana cavallo pokemon cavallo cavallo vai matteo no Ma no, pizze! No! Cavallo! Shaman King! Il re delle sigle! Dunque raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se li conoscevate, se li avete indovinati anche voi Spero abbiate partecipato anche voi a questo gioco Sono troppo vecchio per queste cose No, no, veramente sono cartoni vecchissimi Ho 5 anni più di voi Avventi la like e facciamo la stessa cosa ma con le canzoni trap No Non so neanche una di quelle che mi fa fa culo Quelle le conosco tutte Va bene raga Mi piace un commento iscrivetevi se ancora non puoi iscrivetevi A presto ai prossimi video Linea allo studio Donno tu capri il mio obiettivo Tu puoi la mano Oh 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 Grazie per la visione!